A fare chiarezza sulla questione Ilva e sulle aziende del gruppo Riva Acciaio, poste sotto sequestro dal GIP di Taranto, era stata la stessa procura del capoluogo ionico che aveva sgombrato il campo dai quivoci sul proseguimento delle attività produttive degli stabilimenti raggiunti dal sequestro dei beni. Maggior chiarezza si è avuta attraverso l'intervento del commissario nominato dal giudice, il commercialista Mario Tagarelli, il quale ha precisato che non vi è alcun divieto d'uso dei beni sequestrati. Le fabbriche dunque possono continuare a produrre. Il sequestro, secondo quanto chiarito dal custode giudiziario, ha finalità patrimoniali e il suo ruolo è proprio quello di fare in modo che le fabbriche non chiudano e che i soldi contanti non vengano utilizzati per altre attività. Questo ulteriore chiarimento verrà inviato ai vertici aziendali che dopo la frettolosa e intempestiva chiusura delle fabbriche avevano chiesto al custode giudiziario ulteriori delucidazioni. Mediatore dell'avvertenza è il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato che intende agire in fretta per tutelare i diritti dei lavoratori. L'incontro conferrante è stato un primo passo per la ripresa delle attività negli stabilimenti. La proprietà ha tutta l'intenzione, secondo quanto precisato a margine della riunione svoltasi nella capitale, di impugnare il provvedimento che ritiene illegittimo davanti alla Cassazione. Lo stesso presidente del Consiglio, Enrico Letta, senza mezzi termini rivolgendosi ai riva, aveva parlato con chiarezza. Non usate i lavoratori come rappresaglia rispetto alle scelte della magistratura. Il clima a questo punto sembra stemperarsi così come sembra allontanarsi definitivamente l'ipotesi del commissariamento ventilata qualche giorno fa.